Musica Stasera è la volta di sculture Sculture, manichino o manichino scultura? Questo è un dubbio, ci svegliamo e intanto dobbiamo vedere la vostra Ah, benvenuto. Fantastici. Ah, un dubbio di amore per la moda, sicuramente. Perché lui vuole bene a me, io voglio bene a lui, ci conosciamo tantissimo dal processo. Certo, ma al detto della nuova è un nome ormai non ci conosciuto. Abbiamo voglia di fare tutti e due, nonostante la vostra esperienza non spalla, perché ci vediamo tutti e due. Però siccome abbiamo il bellito, l'importante è andare avanti sempre per lo stile e per il pezzo. L'idea è nata appunto andando nei laboratori di arte vetrina e ho visto appunto questi pezzi di manicisti, quindi storici e l'idea appunto, visto che molte volte vengono sottovalutati nel loro genizzo, l'idea è di farli uscire dalla fuori della rete di convenzioni e di elevarli a un livello artistico nuovo, quindi dargli una nuova vita. E quindi è stata appunto realizzata come omaggio d'arte vetrina, con una ditta italiana, un'unica ditta italiana, che ancora realizza manichini storici in maniera artigianale, con la quale ho potuto collaborare quattro anni fa per una mia mostra. e anche appunto si trova qui come prologo per la mostra che parla tratta appunto dell'evoluzione storica del manichino. Carissima Maria Rosa, ho l'onore e il piacere di presentarvi, Marti, Ilaria e Davide Raciti, che sono, oltre che carissimi amici, i proprietari della Maison Blanche, che potrete venire a scoprire a via Montoro, a Palazzo Montoro. Faremo un overture, un'inaugurazione lunedì sera, dalle ore 18.30 in poi. Aspettiamo con piacere tutti gli amici, i partner e gli amici, naturalmente i colleghi della stampa e i giornalisti. L'atelier è molto molto elegante, dedicato all'alta moda sposa e all'alta moda e abiti d'accordo. Ci sono dei brand decisamente importanti all'interno dell'atelier. Loro sono delle resevizie, le spiegheremo le. Grazie a tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.